La possibile realizzazione di un impianto di trattamento fanghi nella zona del nucleo industriale di Sassascalo continua a far discutere. In comune a breve ci sarà la conferenza dei capigruppo dopo le sollecitazioni dei consiglieri romani Giannangeli, ma ora anche la ditta incaricata dalla realizzazione ha voluto fare le sue precisazioni. La ditta, la DGSRL, fa sapere che l'impianto usa una tecnologia innovativa per il trattamento dei fanghi derivanti dai reflui civili, tecnologia che per loro azzera l'impatto ambientale in linea con i principi della sostenibilità e della transizione ecologica. In merito alle tante perplessità rilevate l'azienda precisa pure che non ci sarà nessun incenerimento dei rifiuti perché tratta solo i residui della lavorazione, fanghi già essiccati derivanti dalla depurazione di acqua e reflui civili, una lavorazione che avverrebbe poi in un capannone di 2000 metri quadri senza prevedere stoccaggi di materiale all'esterno. Per la ditta anche tutto l'iter che si sta facendo rientra nell'iter corretto appunto. Le precisazioni arrivano pure sul sito scelto e in un primo momento questo impianto era previsto nel comune di torno in parte, anche lì si ricorderà i cittadini si fecero sentire, trattandosi di un'area non urbanizzata che ha altre caratteristiche però e considerando i costi si è scelto di dirottare altrove. L'azienda insomma ribadisce che sta operando correttamente e che si tratta di un miglioramento e non di un peggioramento ma le polemiche non accennano a diminuirsi. e che si tratta di un miglioramento e non di un miglioramento ma le polemiche non